La riqualificazione urbana delle palazzine popolari di Via Longo a Teramo è un progetto da 17 milioni di euro, fondi che il Comune potrebbe intercettare dal bando di rigenerazione urbana pubblicato in gazzetta ufficiale. L'intervento sulle 96 unità abitative è stato elaborato dall'architetto Paolo Desideri e mira a collegare questo quartiere con il centro storico, con il polo scolastico di Via Po, con Piazzale San Francesco e con il Parco Fluviale. Si prevedono nuovi spazi verdi di aggregazione e percorsi ciclopedonali. Un progetto importante che ci consente di arrivare all'idea di riqualificazione di un'area particolarmente sensibile della nostra città, una delle più significative sia sotto l'aspetto urbanistico che sociale. Dopo il fallimento del progetto della presente amministrazione del 2012, un progetto che, come abbiamo sempre denunciato anche in Consiglio Comunale, non aveva le gambe per camminare e non aveva nulla di sociale né di riqualificazione complessiva per quell'area nel rapporto con la nostra città, finalmente arriviamo ad una proposta progettuale che ci consentirà di partecipare al bando per la rigenerazione urbana, un intervento importante di circa 17 milioni di euro, che conserva in modo forte e significativo il carattere sociale dell'area. Dai 96 appartamenti arriveremo addirittura al 98. Ricordiamo che il precedente progetto prevedeva solo 16 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, di case cosiddette popolari. Consente una riconnessione con il parco fluviale, una riconnessione anche fisica, oltre che urbanistica, con il resto della città. Il quartiere popolare di Via Longo è sorto a Teramo negli anni 60 e attualmente è composto da sei vecchie palazzine. La maggior parte di esse sono disabitate già da tempo. Nel progetto di riqualificazione previsto dal Comune, delle sei palazzine ne resteranno solo due, mentre al posto delle quattro abbattute sorgeranno due grandi edifici green. La loro destinazione resterà comunque edilizia popolare. Un progetto partecipato che risponde ad un'esigenza alta, significativa, importante della nostra città e soprattutto è un progetto che è il nostro progetto, con il quale parteciperemo a tutti i canali di finanziamento che in questo momento sono in campo, quindi oltre che il bando per la rigenerazione urbana, anche ad esempio il recovery fund. Siamo pronti con un'idea che risponde assolutamente alle esigenze, non solo dell'amministrazione, al nostro indirizzo politico, ma soprattutto della nostra città.